Per ve l'ho detto, oggi Mezzosangue è un artista che abbiamo spinto sempre dal primo momento fin da quando va buttato, diciamo così, sul web, su YouTube, il freestyle, la strafa per esa Insomma, è uscito con il nuovo video, adesso ci colleghiamo via Skype con lui che dovrebbe essere in collegamento con Squarta A Mezzosangue! Non sentiamo niente, vedo solo una... No, state? Ok, eccoci, bene, te come stai Mezzosangue? Bene, bene Bene, ma... 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 Ma come non ci fai? Squarta gli scherzi? Ma lo vedi che poi anche tu se ti metti il passamontaglia diventi Mezzosangue pure tua Ah, ho capito, ho capito Beh, effettivamente un po' tutti stanno diventando Mezzosangue ultimamente Ma in real ce l'abbiamo noi via Skype Ciao Mezzosangue! Ciao, ragazzi! Come state ragazzi? Ciao, ragazzi! Bene, bene, tutto bene, abbastanza Grandissimi, grandissimi Noi tutto a posto? Noi tutto a posto, tutto a posto, belli freschi Dopo educazione fisica puzza ancora ma ci stiamo dentro Siamo qui in diretto Però ci siamo Allora ragazzi, oggi esce il nuovo video di Mezzosangue Ma come si intitola? Mezzosangue Ok È Mezzosangue al quadrato Mezzosangue trattino Mezzosangue Perfetto Perfetto E di cosa parla il pezzo? Tutti i pezzi di Mezzosangue non parla di mezzosangue Io gli dirige senza senso Che lui butta lì Se faccia due tre cose fighe Però poi in realtà non parla di niente No, esatto Parla di rapine Col passamontagna Col passamontagna No, il pezzo parla Diciamo di tutto e di niente davvero Cioè parla Parla di me E di quello che sono Ok Perfetto E chi è che ha diretto il video? Diretto da Antonio Usbergo Con la Possiamo dire che Antonio Usbergo È stato molto paziente Perché lavorate con Mezzosangue È veramente stressante Il grande Antonio Si doveva fare anche Nicco Niccolo Celaglia del Brogan Speakers Tutti e due molto bravi e pazienti Non lavorate mai con Mezzosangue Sguardo fa il cattivo a pubblicità No, mi faccio indietro Adesso passo un passo indietro Lo lascio lavorare da solo No, ma lui fa passi di marketing In realtà sta dicendo Allontanatevi che è tutto mio Capito? Ecco Eh, vabbè l'ha detto dai Grande E l'idea del video è tua? O hai lasciato tutto? Diciamo abbiamo fatto una bella citazione Nel senso è citato da un video È una cosa che abbiamo visto Ci hanno fatto vedere su YouTube Del subcomandante Marco Questo non è un video musicale È una cosa dove un sacco di gente Si toglie il passamontagna E questa cosa la sentiamo proprio Nostra Esatto Abbiamo voluto fare una citazione Al subcomandante Abbiamo fatto la stessa idea Cioè che sotto il passamontagna mio C'è chiunque Abbiamo visto che lui l'aveva fatto Abbiamo detto facciamola anche noi nel video Perché è una bomba Eh, interessante Grande Ma stai anche lavorando a un progetto A un nuovo progetto Vuoi già anticiparci qualcosa? No Perché mi sto per tirare indietro Non lavorerà No Adesso qua Ci è stufato Sono troppo pazzo E si è tirato indietro Siamo in studio Come vedi Si vede che siamo in studio Perfetto In effetti Esatto Ti capisco Guarda In quanto lentezza Ti capisco bene E la gente sta ancora scaricando La musica cicatrene Come sta andando? Sì Sì Sta andando bene Il mixtape sta andando una bomba E intanto Intanto mi aspetto che tutti lo scaricano Preparo il discone Perfetto Perfetto Io adesso Mezzosangue Vorrei un attimo interpellare Chiedere una cosa Squarta Squarta Tu dovresti fare Ti va di fare un bel annuncio Per The Flow? Vuoi dire un po' Mi faccio ricrescere i capelli Trombette Trombette Qualche annuncio devo fare Io non so niente Mi stai mettendo in mezzo Ok faccio tutto io Faccio tutto io Allora ragazzi Qui in diretta A The Flow Via Skype Con Squarta Mezzosangue Posso annunciarvi a tutti quanti Che Squarta È un'altra leggenda Del beat DJ Shokka Entreranno nel team di The Flow E adesso Terranno loro Quella rubrica Diciamo Rest in beats Non rest in beats Però comunque Loro ci daranno consigli Sulle basi Sulle produzioni Tutto quanto Quindi qua ci vuole proprio Trombette Tutto quanto Squarta e DJ Shokka Ragazzi Posso dire una cosa Visto il rapporto che ho con DJ Shokka Cioè che siamo due cazzoni al quadrato Sarà difficile proprio fare dei discorsi seri Parleremo un po' di quello che ci piace Della musica Sarà una cosa Oltre informale In divertimento In relax È la cosa migliore La cosa migliore Perfetto Va bene Allora Allora ragazzi Io vi saluto Adesso ci andiamo a vedere il nuovo video Di mezzosangue Ovvero Mezzosangue Quindi Grazie Dove sta andando? Ah ok ok Vi Vi per vendetto Allora Squarta Ci sentiamo Ci sentiamo noi due Allora Dai Un abbraccio ragazzi Buon lavoro Ciao Mezzosangue E dopo ci becchiamo con Cochi Vuoi